...degli incontri di ritorno quando bisogna decidere a tutti i costi le sorti della qualificazione. United, formazione scozzese, grintosa, decisa, che dopo aver vinto per 1-0 l'incontro d'andata ha controllato a lungo la partita, subendo al quarantesimo il gol di Calderet su cross di Marcos, ma poi nei minuti finali col Barcellona costretto a spingersi in avanti, trovando addirittura prima il pareggio al quarantesimo con Clark e poi addirittura la vittoria al quarantaquattresimo con Ferguson e quindi formazione del Dundee United qualificata, mentre il Barcellona resta amaramente escluso.